Musica Quinto congresso di ASSO DPO, l'associazione dei Data Protection Officers. Tanta gente, due giorni di lavoro, molti ospiti anche dall'estero. Abbiamo fatto un giro tra i partecipanti per sapere quali fossero le aspettative e quali sono le impressioni che hanno avuto dal congresso. I primi che devono occuparsi dei propri dati siamo proprio noi stessi. Il garante italiano anche nell'ambito dell'Union Data Protection Board è uno dei garanti più attivi. Il GDPR costituisce una rivoluzione, uno stravolgimento completo del concetto di protezione dati personali e del concetto di privacy che conoscevamo. La privacy non è la tutela del dato in sé per sé, ma è la tutela della persona. Indubbiamente è un evento molto interessante che apre gli spazi sul GDPR, su tutta Europa e finalmente si parla una stessa lingua fra i diversi stati europei. L'aspettativa era di avere punti di vista diversi da quello che abbiamo noi in azienda e abbiamo avuto le nostre aspettative più che soddisfatte. Molto interessante, la prima volta che partecipo ad un corso sulla privacy, è un convegno e devo dire che è dato degli spunti molto interessanti da portare in azienda. Ho notato un'eccellente capacità organizzativa, un panel di relatori veramente di qualità, ho conosciuto diversi aspetti di un tema che poi serve anche per il nostro marketing e per la nostra comunicazione. Il congresso è estremamente interessante, ho trovato la condivisione tra diversi stati europei alla fine delle problematiche che noi tecnicamente sul campo troviamo quotidianamente, quindi questo è stato molto rassicurante che non siamo solo noi da avere dei dubbi, ma i dubbi sono condivisi e avere la disponibilità di tanti relatori così formati e competenti non è un evento da poco. Il congresso è sempre stato un'occasione per potersi raffrontare con altri competenti del settore. GDPR ha l'ambizione di essere una risposta al cloud, forse non è l'unica risposta possibile, però dà degli strumenti per trovare tutele concrete. Diciamo anzi che ci vogliono molti dati per proteggere i nostri dati. Bisogna capire che ogni volta che si entra su un dispositivo tecnologico, si usa un device, inevitabilmente si lasciano tracce. La privacy viene finalmente presa sul serio. Io sono dell'avviso che avere un buon sistema privacy aiuta le aziende, ma aiuta molto il business. Il PO è la figura fondamentale ormai nell'ambito privacy, in protezione dei dati, perché la figura di riferimento, come diceva Bianchi Clerici, è la chiave di volta di tutto il sistema. I knew that would be a very good event. Abbiamo avuto un panel di autorità di vari paesi, il più picco è San Marino, è un'autorità neonata. Chiude i battenti questo quinto congresso di Asso DPO. Tanti ospiti, tanti partecipanti. Matteo Colombo, cosa si porta a casa? Ci portiamo a casa soprattutto una serie di incontri, di riunioni, di speaker, che hanno dato un valore aggiunto a tutti i DPO italiani. La cosa più importante è che c'è stato uno scambio di competenze, uno scambio di interessi e in questo momento l'associazione è proiettata allo sviluppo non solo europeo, ma anche territoriale italiano, quindi sicuramente un bilancio molto positivo.